Che cosa stiamo perdendo? È una delle domande che una persona si può porre in occasione della Giornata Mondiale della Terra, istituita oltre 50 anni fa e dedicata ai temi ambientali nel loro complesso, dall'inquinamento ai cambiamenti climatici fino al pericolo di scomparsa di specie vegetali o animali. Tra le Dolomiti, grazie alle campagne di studio glaciologico, si aggiorna ogni anno l'allarme sul ritiro del ghiacciaio della marmolada. Secondo i dati storici ARPAV, le situazioni preoccupanti però sono diverse. Se il corpo glaciale in questione ha perso il 49% della sua estensione tra il 1910 e 2014, nello stesso arco temporale quello del Sella si è ristretto del 73%, quello delle Tofane del 42%, quello del Cristallo del 47%. C'è il tema dell'innalzamento delle temperature tra il 1993 e il 2019 in Veneto la media annua è aumentata di un grado e mezzo. E poi ci sono gli eventi atmosferici estremi come vaia o scenari emergenziali legati agli incendi boschivi come quelli recentemente verificati sin comune di Longarone che incidono sugli equilibri delicati degli ecosistemi. La Giornata Mondiale della Terra è un'occasione anche per ripensare a consumi energetici e utilizzo delle risorse idriche. Per quanto riguarda il primo tema basti pensare che il consumo di energia elettrica in Veneto, secondo i dati elaborati da Terna, è raddoppiato tra il 1983 e il 2018. Se parliamo di acqua invece si pone il tema dell'efficienza degli impianti. A fine marzo l'Istat posizionava Belluno tra i capoluoghi con una rete meno efficiente in Italia, stimando perdite idriche del 68%.